oi si è rotto ciao il corrimano è saldo è impossibile che si rompa abbiamo visite arrivo subito sto arrivando salve camioncino ehi ma chi c'è qui ciao ciao riccardo senti mi sono perso ehi macchine è ora di alzarsi buongiorno è già ora ma è presto andiamo a fare una passeggiata dai semaforo rosso bisogna aspettare uno due tre quattro cinque sei ci sono tutti semaforo verde si può andare rimanete compatti ehi ma questo che cos'è wow che belle rampe ah questo è un ascensore wow che bello scivolo ora provo a scendere da qui che bello voglio farlo un'altra volta salgo sull'ascensore oh qui siamo davvero in alto ehi ma che macchina è quella ehi cosa sta facendo aiutatemi oh si è rotto chi c'è qui ehi piccolo ma che ci fai qui eh eh mi son perso non ti sei fatto male dai vieni con me andiamo da un meccanico troverà lui una soluzione tranquillo ora ci penserò io ad aiutarti vediamo un po' non è che hai qualche danno? direi tutto a posto hai solo qualche graffio adesso sistemo tutto ho qui con me una boccetta spray e uno straccetto ehi mi fa il solletico dai amico solo un po' di pazienza adesso applicherò alla carrozzeria uno speciale liquido magico e ora applichiamo un cerotto ecco qua ora sei come nuovo e sei pure il più bello grazie Riccardo ehi sembra che qualcuno sia arrivato fin qui apposta per me evviva ti abbiamo trovato finalmente urrà guarda un po' che bel cerotto ma guarda quante macchine tutte di diverso colore chiedo scusa per essermi perso la prossima volta seguirò meglio le tue indicazioni tranquillo l'importante è che stai bene mettetevi in fila e tutti dietro di me e ora faccio la conta per vedere se ci siete tutti aspetta faccio io uno due tre quattro cinque e sei ci sono tutti si parte arrivederci macchinine e per evitare di perdersi bisogna sempre ascoltare quello che dicono gli adulti ciao ciao ciao